Eccoci qua, come promesso abbiamo in collegamento Skype, non lo vogliamo fare più attendere perché era già pronto da qualche minuto, il Vescovo Rosario Pio Ramolo del pastore della diocesi di Goree. Vescovo Cappuccino, ben trovato Eccellenza. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Noi abbiamo approfittato della sua presenza in Italia, siamo felici di averla qui in collegamento con noi in occasione anche della novena in preparazione alla festa di San Pio. Ovviamente lei sa più di noi quanto è caro Padre Pio e sappiamo anche che è caro al suo regge in Africa. Certamente perché ci sono state delle coincidenze importanti per noi della diocese di Goree e per me personalmente. Proprio il giorno in cui io andavo a Roma dal Santo Padre per ringraziarlo della nomina e della creazione della diocese di Goree, nello stesso tempo ci siamo incontrati con il Padre Provinciale che andava dal Santo Padre lo stesso per fissare la data di beatificazione di San Pio da Pietrelcino. Quindi ho detto che questo è un segno per me, che devo essere un pastore benedetto da lui e che tutta la diocese possa essere protetta e benedetta da lui. Noi siamo certi di questo. Io voglio però chiederle, perché abbiamo pochi minuti a disposizione, ma vogliamo sapere come sta andando la situazione sanitaria nel posto in cui si trova. Ovviamente adesso lei è a Morcone, diciamolo ai nostri amici che ci seguono da casa, è qui in Italia ancora per poco, poi rifarà il rientro, ma lì a che punto è arrivata la pandemia? Cosa si spera? Per quanto riguarda la pandemia, l'ho detto anche ai miei cristiani laggiù, il Signore, ho detto, ama i poveri e ama l'Africa. Perché se fosse arrivato con la stessa forza, con la stessa violenza con cui questa epidemia è arrivata nel mondo occidentale, saremmo tutti morti come mosche. Perché dal mese di marzo del 2020 fino ad oggi abbiamo avuto solamente 4.500 casi circa e soltanto 80 morti. Quindi è una delle più poche nel mondo insomma, questa statistica. E questo lo si deve veramente alla grazia del Signore che ci ha protetto, ma penso che anche altri fattori, quali dicono gli specialisti, il clima, il fatto che il Chad si trova proprio nel cuore dell'Africa e quindi non ha troppi rapporti con altri paesi e quindi non c'è stato modo di trasmettere e di diffondere il virus del Covid, diciamo così, nel paese. Anche se noi abbiamo comunque dal primo momento ho osservato le stesse, diciamo così, preoccupazioni, le stesse, come le stiamo seguendo noi qui, sì, certamente. Proprio poco, distanza, mascherina, eccetera. Bene, bene, almeno questa è andata bene, diciamo sta andando meglio che insomma in Occidente, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, perché tante poi sono, tante sono le vittime contate fino ad oggi, dall'inizio della pandemia. Quindi questa, diciamo, è una notizia che ci fa particolarmente piacere. Ovviamente le vittime ci sono anche lì, però noi sappiamo che lei ha un cuore grande, a parte il fatto che anche la sua famiglia, insomma, è stata toccata da Dio. C'è il fratello lì accanto, fra Donato, che ci ha aiutati anche nel collegamento, un altro ovviamente a cui va il nostro pensiero, e la nostra preghiera. Com'è l'ultima domanda, eccellenza? Com'è il dialogo con lì, in Chad, con chi non ha lo stesso credo? Ha difficoltà lei a dialogare? In Chad abbiamo avuto un tempo, io ormai quest'anno faccio 40 anni che sono giù, all'inizio quando era arrivato, i musulmani soprattutto, perché è un paese maggioritariamente musulmano, i musulmani che c'erano erano abbastanza, diciamo così, in dialogo con noi cristiani. Da quando è successa la guerra del Darfur, che non so se vi ricordate, una decennata di anni fa, più o meno, che ha continuato fino ai nostri giorni, delle vaghe, diciamo, sono scese di musulmani integristi che non sono manco amati dai vecchi musulmani che erano con noi, perché non riescono a inserirsi e quindi piuttosto ci danno fastidio e impediscono il dialogo che abbiamo sempre avuto con i musulmani del posto e con cui ci intendiamo bene. Al sud è meno sentito, ma al nord è abbastanza evidente questa difficoltà, però non è comparabile ai paesi di cui si sente parlare nella cronaca odierna, quale l'Afghanistan e tutto il resto, insomma non c'è niente a che vedere per quanto riguarda quella pratica musulmana integrista totale. Ecco, questa è una cosa positiva. Eccellenza, oggi abbiamo parlato parecchio nella nostra puntata, che sta volgendo al termine, di missioni. Lì le missioni come procedono in pochi secondi? Dovunque siamo è missione, anche se il Signore ci invita a uscire, il Papa ci ha sempre invitato da quando è arrivato come pontefice, a uscire e andare verso le periferie, verso i poveri, verso quelli che se non hai bisogno e annunziare la parola e testimoniarla con la nostra vita. Questo è lo sforzo che si continua a fare, però bisogna riconoscere che ormai la Chiesa ciaudiana e compie i cento anni, fra 7-8 anni, 1929 è nata e anche se ha pochi anni, celebrerà il suo centesimo anno, è già una Chiesa che è matura per essere autogestita, autofinanziata, autoservita dai sacerdoti, dal personale del posto. Quindi da questo punto di vista c'è stata una crescita importante, non si va lì per portare noi il Cristo, ma per condividere la fede cristiana insieme a questo popolo che sta all'inizio del suo cristianesimo. Allora, Dio ha chiamato e tanti hanno risposto, una vera e propria vocazione ad Gentes, eccellenza, grazie di cuore per il suo intervento qui oggi nel pieno della Novena a San Pio, grazie di cuore per quello che fa in quella terra di missione e le strappiamo un saluto in francese, oltre che in italiano. Au revoir e che Dio vous bénisse. Ecco, io rispondo in italiano. Arrivederci alla prossima e che Dio la benedica. Grazie di tutto, grazie di cuore. Arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Alla fine, allora. Chiudiamo insieme, io e Monsignor Ramolo, a tutti voi auguriamo una buona serata. Grazie a tutti.